Vai, due o tre domande secche ragazzi Davide Burani Poi ne ho una per Burani Partiamo da quella di Giacomo La mia è da finale La gran finale Allora la teniamo dopo Azic È arrivato Reazioni dalla continanza Sul grado di soddisfazione Rispetto a questo acquisto No, soddisfazione, mercato Allora, noi giochiamo, Juve Roma, penultima di andata Con l'idea che magari potremmo trovarci Nella condizione di poter fare Un giorno nei prossimi mesi Uno sgambetto scudetto che nessuno Ovviamente oggi È così al mercato Allora, parliamo di mercato Allora, ragazzi siete Tremendi Devo fare Devo fare una rubrica solo di mercato Chiamare qualcuno Che qualcuno faccia il mercato Eh, ma siamo a gennaio Luca Ma siamo a dire Sì, ho capito Ma chi se ne frega della Roma Fantastico Mike De87 Allora Azic Grande soddisfazione Sì È un giocatore Che è un giocatore Secondo me che oggi Non ha un peso Una misura reale Rispetto al contesto Eh, chiamiamolo internazionale Mi spiego meglio Se tu hai una stella Una stella Stella, presunta stella Una stellina Un Grande prospetto 2006 Francese Tedesco Inglese Spagnolo È molto facile Che tu lo abbia visto All'opera In contesti Più o meno Importanti Ma di calibro Già trasversale Internazionale Non è il caso di Azic Non so come dire Azic è un giocatore Che all'interno Del movimento calcistico Del Montenegro Da tutti coloro Che 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 Conoscono Il calcio E una sua storia Nel calcio montenegro Ti dicono Giocatore Come non esceva qua Da 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 trent'anni Da cinquant'anni Non so come dire Da Giocatore Che probabilmente Anche di più Che Che essere Un Il giocatore Di riferimento Del calcio montenegrino Per i prossimi anni Ma forse Del intero Settore balcanico Dei bassi balcani Quindi c'è l'idea Che possa essere Questo giocatore Ma io dico È molto un'idea Tu giochi anche Sull'idea Ha struttura fisica Sì Ha personalità Sì Ha capacità Sicuramente Fuori dal comune Sì Ha un buon prezzo Sì C'è una Concorrenza feroce No Me lo lascio andare Per risparmiare Ottocento Mila euro Alla fine La risposta è stata No Lo prendo io Ne aggiungo qualcuno Cinque e mezzo È il prezzo finale La Juve lo prende Lo lascia lì È chiaro che Secondo Io Quella è una condizione Dovuto al fatto Il giocatore Non è ancora Diciottenne Ed è extraeuropeo Che non si può evitare Sarebbe stato meglio Portarlo subito Per fare Un po' di Next gen Quello che è Però Parliamo di un giocatore Che ha anche il tipo Di ruolo Molto 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 Secondo me Attraente Cioè non so come dire Quando sei Un centrocampista Che ha struttura Capacità offensive Qualità Cioè per dire Voi sapete che io Ho il pallino Berkval No? Che è un 2006 Che è un centrocampista Con quel tipo Di caratteristiche Però un giocatore Gioca in prima squadra Il campionato svedese Per carità Ha già convocazioni Nelle under Come la scala Svedese Non ha fatto ancora nulla A livello internazionale Ma sai Cioè le volte Che lo hai visto All'opera L'hai visto già un po' In quel contesto Il calcio adulto Il calcio Di un certo tipo Non ancora A primo livello Anzi Sei più indietro Ma il tipo di giocatore È quello Quello in cui intravedi E sai che Se la pesco giusta La pesco bene Pesco Un giocatore Che Già Quasi pronto Sarà poi A lui Dimostrare Di poter fare La differenza Comunque non è Tipo Milinkovic Secondo me Può essere anche Un uomo Milinkovic Sì Siccome porta meglio Il pallone di Milinkovic Sulla Però Milinkovic è un giocatore Che Un giocatore Nella qualità Dell'usare il fisico Di Milinkovic Ho visto in pochissimi Nella mia vita Lo dico la verità La qualità Dell'utilizzo Del corpo Di Milinkovic Veramente fantastica Non so Cosa ne pensate voi Detto questo Vedo che va avanti A triplette In Arabia Passeggiando Probabilmente Detto questo Detto questo No per me Non è un Vidal Comunque vediamo Ragazzi Però parliamo Luca di un giocatore Che tra un anno Due Sarà ai livelli Attuali di Hildiz Come esperienza Quindi parliamo Ancora di un profilo Molto in divenire La Juve a gennaio Ha bisogno Di un profilo In essere Immediato Cioè Un giocatore Che irrobustisca Un centrocampo A cui mancano Comunque due pedine Per ovvi motivi Ne abbiamo parlato Vi faccio un esempio Giusto per citare Ancora Bergwald Visto che Coetaneo E anche il ruolo La capacità del ruolo Può essere quella Può essere un po' Un box to box Con grande capacità Negli ultimi Anche 30 metri Bergwald è un giocatore Per il quale Il Joe Garden Ha rifiutato Praticamente 10 milioni Poco meno Quest'estate Ma Senza batter ciglio Cioè come dire Tu sei pazzo Ok Questo giocatore Perché Appunto È un Giocatore Che gioca in un Tutto un altro contesto E che per certi versi Non ha ancora Fatto vedere Quelle stesse cose lì A A Un pubblico Un po' più Un po' più Mi verrebbe da dire Occidentalizzato Ma è sbagliato Un po' più Elittario Elittario Il calcio Un po' più di elite Non avendo a fare ancora Il calcio Lo puoi prendere a 5 e mezzo Se non te lo sogni E ci sta che la Juver Provi il colpaccio Spendendo questo Questo tipo di cifra Ci sta Prego Scusate Altra domanda La seconda domanda E' un'osservazione E' un'osservazione Mica stupida Dico che però Mi è stato riferito Io l'avevo detto Anche in live Che il Bologna Interveniva sul giocatore Con offerta ufficiale Che sembrava poter essere Decisiva Senza averlo visto Con propri emissali Sul campo Che non vuol dire Solo puramente Sulla fiducia Ma più per Non voglio dire L'AIP Ma più perché So Che Lì Si dice Tutti Dicono che Da Savicevic All'ultimo Dei fessi Che questo è il giocatore Da prendere E quindi Noi lo prendiamo Qualcuno ovviamente L'ha suggerito anche a Sartori Che però In genere va sempre A vederli almeno una volta al vivo Nel caso di Azic Non l'aveva visto Questo lo dico Perché mi è stato così riferito E mi fido molto di chi Me l'aveva detto Dicevi Davide Chi è il centrocampista I due centrocampi I due centrocampi Su cui tu continui Ad avere un occhio Molto attento Per gennaio Io continuo A avere un occhio Attento su Sancho Che non è un interno Di centrocampo Come sapete bene Però sono molto curioso La Juve l'ha visto Granpasso Secondo me dal vivo no Però ha sicuramente Persone Di cui Di massima fiducia Che possono essere Dei referenti indiretti Poi magari mi sbaglio Però sai cosa facciamo Granpasso Io e te Oggi stasera Ci informiamo Domani veniamo in live Ve lo diciamo Io non so se A Juve non ti dirà mai Non l'abbiamo mai visto No Perché scusate Non l'abbiamo mai visto Cioè è ovvio A parte che oggi I giocatori I giocatori li vedi Anche senza vederli Cioè non le apre Le cose Però vederlo al vivo Fa Fa Quindi io vi dico Sancho dove lo mettiamo Non lo so Caro Iroschitano Però quella è una situazione Sulla quale io Tengo un occhio Davide La seconda Se dovessi tenere un occhio Su un altro giocatore Sul Sudaco Terresti comunque l'occhio Oppure Non riesco Non riesco A trovare dei segnali Per Sudaco So che lì abbiamo Una batteria di lavoro In continuanza Abbiamo una batteria di lavoro Su Sudaco Lo seguono tutte le partite E' uno di quelli Su cui siamo addosso Lo scouting e tutto Ma non intercetto Possibilità di poter Trattare Sudaco In questa sessione Quindi al momento Sono molto freddo Su questa Su questa Situazione Ecco E quindi Hoiberg Ne abbiamo parlato ieri Abbiamo avuto Il contributo importante Di Daniele Longo Io e l'Albanese Abbiamo notizie Leggermente diverse Da Daniele Però Vediamo se può accendersi E il giocatore spinge Cioè Hoiberg spinge Per Andare via A Tottenham Per la soluzione italiana Lo ha detto anche All'intermediario La Juventus Si è fatta realmente Viva Mostrando interesse Già da tempo Quindi Cova una speranza In questo momento Hoiberg Già capire Come puoi andarla A chiudere Col Tottenham Perché a livello finanziario La Juve Quel tipo di impegno Non si impegna Per 25-30 milioni Per Hoiberg Ve lo dico Poi c'è un tema Anche di decreto Di indice di liquidità Da tenere in considerazione Vuoi spiegarlo Ancora una volta Bene Davide Allora L'indice di liquidità È un parametro Considerato Dalla FIGC Che sostanzialmente Obbliga Le società Ad avere questo parametro Superiore Mi pare a 0,6 È il rapporto Tra le attività correnti E le passività correnti Cioè La bilancio Allora Le attività correnti Sono I crediti E le disponibilità liquide Adesso cerco di semplificare I crediti a breve termine Quindi entro i 12 mesi E le disponibilità liquide Le passività correnti Sono I debiti A breve termine Siano essi Di tipo commerciale Verso altre società O finanziari Questo rapporto Deve fare 0,6 Deve fare almeno 0,6 Da 0,6 in su Chi è da 0,6 in su Può Fare mercato Chi è Chi ce l'ha Da 0,6 in giù È bloccato Nel fare mercato Fino a quando Non vada A Risistemare Questo parametro Ad oggi la Juve Oscilla tra 0,2 e 0,3 E l'indice di liquidità Dell'Inter L'hai calcolato? No Visto che a 9 milioni Vanno a prendere Buchanan No Non l'ho calcolato L'indice di liquidità Dell'Inter Lì però I debiti E l'indice di liquefazione Della FIGC L'hai calcolato? No Quello non l'ho calcolato Però Quello bisogna Chiedono Chiedono Vi faccio la terza domanda E poi Prendo quella Che mi è stata promessa Però questa la faccio Diciamo Rispetto alla chat Ma cos'è questa storia Io me la devo essere persa Dell'allenatore del prossimo anno Che sta raccogliendo le voci Ho letto questa cosa Io ho detto Ragazzi Quando parliamo della storia L'allenatore Juventus 23-24 Scusate 24-25 L'Apsos Un argomento Che inizieremo Ad affrontare Dall'8 gennaio in avanti Questo ho detto Siamo No Quindi vuol dire Conferma La chat La chat può confermare La community può confermare Che io ho detto questo Ma perché dall'8 gennaio Che succede? Dall'8 gennaio che succede? Che è finito il giorno d'andata Ah beh no Pensavo che era finita la corsa No Quindi E quindi abbiamo scollinato E una volta scollinato Si può iniziare a srotolare Gli argomenti No perché se no Ragazzi è come qua Giacomo forse tu Ho capito che ci segui Però posso dire Cioè Qua tu È da metà settembre Che tutti vogliono sapere Dall'8 gennaio E anche perché È assurdo O no? Massimo L'altro ieri non lo ha confermato Ma lui stesso ha detto Non vi dico perché Ma è l'ultimo anno di Allegri Quante volte la leggo Questo ci credo anch'io Ma io credo che Luca sia molto in Guardiola In questo momento Con la G minuscola Con la G minuscola Certo No perché qua Poi su Twitter ci vai tu Su X Su tutte queste robe qua A leggere Se io dovessi fare Allora secondo me Non sarà Allegri Questo se l'era preparato ragazzi Quella di In Guardiola no Mi è venuta Devo dire Devo dire la verità Non credo neanch'io Sarà Allegri Non penso Sarà Conte Però Ad oggi Non saprei veramente Fare un Saprei dire Chi non sarà Più che chi sarà Però quello lo sa Luca Per fortuna Quindi c'è C'è Luca Che ci tiene Che ci tiene vivi Giunto lì Si è fatto Un'idea Si Si è fatto Un'idea E' questo Che Che cambia Nel Nel modo Con cui noi Nel nostro mestiere Guardiamo alla vicenda Perché finché C'è confusione Per gennaio Finché c'è confusione Finché c'è No per l'allenatore Credo Per l'allenatore Credo Giunto lì Si è fatto Un'idea Perché questa è la domanda Che noi dobbiamo porci Se abbiamo questo tipo Di risposta Ma giunto Non si sta ponendo Il problema Ma no In società Sai si vedrà Però sai Ci allegra Il contratto Ma se non avesse il contratto Esistono 7-8 possibili strade Tutta sta roba Non vale una live Non vale un dibattito Cioè non vale Vale un dibattito Vale sempre Ma non vale Una notizia Non lo è Giunto lì Si è fatto un'idea Sì E allora Se si è fatto un'idea Meriterà Che l'argomento Venga affrontato Dall'8 gennaio 2024 Anche perché le società Iniziano a programmare La stagione 24-25 Non a maggio-giugno Iniziano a programmarla Già a febbraio-marzo Quindi Al netto del fatto che Sul campo Febbraio-marzo È ancora molto lontana Ma in società Già lo sapranno Se tenere o meno allegri Questo a me pare evidente Il fatto che non abbiano iniziato A parlare di rinnovo Mi fa pensare Che evidentemente La strada sia tracciata Mi auguro almeno Una cosa Che a febbraio-marzo Già sia abbastanza Visibile il fatto Che la Juve faccia la Champions Sì Questo Penso di sia Infatti il motivo Per cui bisogna spingere In campionato E su cui tutti stanno marciando Il tema quarto posto È proprio perché Questo lo so Loro danno per Non Se esiste un aggettivo Più forte di fondamentale Trovatemelo Esistenziale Ecco esistenziale Il fatto di dover fare La Champions l'anno prossimo Anche perché La Champions cambia formato Avrà 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 più ricavi Quindi ovviamente Servirà Anche perché il bilancio Di quest'anno Come abbiamo già detto Sarà un bilancio Abbastanza complicato Ma questo già Lo sanno Da febbraio-marzo Si inizia a programmare La prossima stagione Quindi sia da un punto di vista Di squadra Di team Inizieranno le valutazioni Inizieranno a essere impostate Già Diciamo i progetti Per poi eventualmente Poter andare a Dama A giugno A giugno A luglio Ecco Io penso che sarà Che sarà questo Per quello l'anno prossimo Sarà il vero anno di ripartenza E Io sono molto curioso Di vedere cosa succederà A febbraio Con il bond Per me febbraio Sarà molto interessante Da quel punto di vista lì La scadenza del bond E capire Cosa succederà Al posto del bond Intanto la Juve Ha messo sotto Un po' di Investigatori scout Di quelli tosti Su una serie di profili Neanche troppi Devo dire Francesi Tra cui Desiree 2 Lo conoscete? Ho già sentito Desiree 2 Del Diciotto Dicennove anni Duemila e cinque Duemila e cinque Ma Ma Ritenuto Fortissimo Due Desiree 2 Pallino Del nuovo corso scouting Andate a studiarlo Ne parleremo nelle prossime puntate Io devo iniziare A ringraziare un po' Dei nostri amici A partire dal doc Piedante Piccioni Che è stato con noi Desiree 2 Ma lo vediamo contro il Milan Quindi In Europa League E' bravo E' bravo Ci scrive Cri 9999 Desiree Beseguire Rotto Infortunato Stagione Fin qui Da dimenticare Per lui Juventus Aveva chiesto assolutamente Informazione Monaco Lo sapete Questo però 2 Uno che piace Ai vertici Dello scouting Della Juve Che hanno Messo In attività Gli investigatori Da qua A maggio Saremo addosso al giocatore Che quindi vedremo All'opera Abbiamo tante situazioni Di cui parlare Ragazzi Da qui in avanti Ma Io sono Sono Ragazzi La cosa La vicenda è clamorosa Bomba finale La vicenda è clamorosa Riguardo No E che sto lavorando Su una cosa Che non Non riesco esattamente A No È perché La Juve Ha fatto Una mossa Che mi ha Molto sorpreso Ma non ve la documenterò Oggi Ma molto sorpreso Perché voglio Dei dettagli Voglio capire La logica Di questa mossa Su un E vi dico il ruolo Viene giù tutto Perché Perché ovviamente È stato sorpreso Anche Per il ruolo In cui gioca Questo 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 Giocatore E sto parlando Non per gennaio Ma per l'estate Mossa Concreta Per un difensore centrale Cioè Ok Voi direte Tutto Tutto serve Se è bello Forte Giusto Sì Beh E però Mi domando Mancino Sì Un difensore centrale Mancino Che voi direte Nulla di sconvolgente Vero Non è che sono sconvolto In quanto tal Però Centrale Mancino È un'urgenza Giacomo Un'urgenza Magari Non è Non è la prima Casella Che io metterei Tra le priorità Sicuramente Però Dipende però Perché No perché Perché La Champions Davide Spiegaci La Juve Ha un Devi fare due squadre Questa non Non ha un problema Sì Al posto di Alexandro Però devo andare a prendere uno Che è un titolare È questo che chiedo Ovviamente Vi sto parlando di uno Che se vai A muovere Quelle acque Stai pensando Il titolare Lo dico Luca Se tu pensi Al fatto che oggi Noi stiamo giocando Una sola competizione È certo È vero E l'anno prossimo La Champions Non è che la puoi giocare Come Di fare buona figura E di uscire al giro Nell'eliminatorio La Juve Oggettivamente Ha bisogno Di rafforzarsi In maniera importante In maniera importante Significa che Tu devi fare Innesti Di qualità E vi viene da dirti Di sì In difesa Allora Non sto parlando Di un giocatore Da 60-70 milioni No No beh Questo è l'idea Parlando del giocatore Però mi sorprende L'idea Che so Non essere un'idea Ma anche La caratura Anche la caratura Del giocatore Noi Tra l'altro Non sappiamo Se il prossimo anno La Juve gioca 3 o 4 Tra l'altro Beh Dipende da chi Gestisce il manico No Fatemi lavorare Ragazzi Fatemi Ecco perché tu prendi Ermoso a 0 Dico vabbè Prendi uno parametro a 0 Il colpo Ecco lo dico Non è a 0 Allora dico ma Beh Luca però scusami Se tu Non è ermoso Di giocare Di giocare Di continuare a giocare A 3 Con l'idea di giocare Bene le due competizioni Tu oggettivamente Chi sono i giocatori Su cui puoi fare Sicuro affidamento Cioè quelli Di assoluto livello Tu hai Bremer Che è di assoluto livello Danilo Ni Perché comunque Inizia ad avere La sua età No Aspetta Aspetta Danilo Quest'anno comincia A scricchiolare Danilo Ni Gatti No Danilo Danilo Non è un giocatore Che potrà più fare 40-50 partite Inizia ad avere Anche lui Qualche problemino fisico Già quest'anno Inizia ad averli Poi ha i regani Che ti fa molto bene Ma ovviamente No Danilo Ha rinnovato ragazzi Non scade Danilo ha rinnovato Scade nel 26 Durante Durante la tempesta Dei punti Quindi bisogna Quindi hai gatti Che però Devi dimostrarti Di fare anche In contesto europeo Un ulteriore step di crescita Capisco che un innesto Che magari abbia anche Una buona esperienza A livello europeo Centrale mancino Calcare bene Quei coscenici Due su tre Tu ce li hai Che sono Questo Signor X Bremer E poi puoi avere Gatti Danilo Rugani Ma non puoi mettermi Danilo con Gatti e Rugani O Sono sfumature diverse Anche Gatti e Rugani Cioè lì Con i giocatori Ce ne sono Per me Che poi io sia Il primo a dire Mi manca il centrale Di sinistra Verissimo Nella Juve Ideale Mi piace Attenta Mi piace l'idea Che la Juve Stia andando A pensare Concretamente A quel profilo A costo di spendere Qualche soldino Sul centrale mancino Perché è una roba Che ci manca Da troppi anni E il dopochiellini Ovviamente Non è mai stato Davvero pensato Per me ha molto senso Paradossalmente Noi abbiamo più bisogno Di un innesto In difesa Per l'anno prossimo Numericamente Rispetto magari Al centrocampo Dove Abbiamo sicuramente Bisogno di un innesto Ma con uno Andiamo a sistemare Perché poi recupera I fagioli Perché poi qualcuno Dei prestiti torna O davanti Dove siamo E un under 25 Quindi non è un under 20 Under 21 Un under 25 Io ti dico Luca Da giuntoli Mi aspetto Per l'estate Il nome forte A centrocampo La Juve Ne ha troppo bisogno Ma Giacomo Non faccio il nome Ma nel senso Non mi viene L'altro giorno Ero d'accordo Perfettamente Con Mister Gatta Che ha detto L'in su Cross Ovviamente L'in per lo stipendio Perché Cross Sarebbe a zero Però io dico Un nome forte A centrocampo Ci vuole A Giugno Ma quello Intanto ce ne vuole Uno sostanzioso A gennaio Ma scusami Luca L'ultima cosa E poi ti lascio andare Sul rinnovo di Rabiot Come siamo messi? Tutto fermo Ma non per disperazione O perché le cose Sono messe male Perché Rabiot Non apre Al momento Il file Non lo apre Con la Juve E ha rassicurato La Juve Sul fatto che Il momento Non è maturo Per lui Neanche Per aprirlo Con altre società Passeggio sulla neve Rabiot Rabiot Ha fatto sapere Che lui Fino almeno A febbraio Marzo Non apre il dossier Sul suo contratto Né con noi Né con altri Rabiot rimane alla Juve Sette anni Con sette contratti Annuali Di file Beh c'è solo È come Mbappé Anche Mbappé Sta facendo gli annuali Sì sì Sono gli unici due Al mondo Che fanno gli annuali All'apice della carriera Ragazzi Ci saranno Si saranno consigliati In nazionale Non si sono messi d'accordo Molto bene Molto bene La mia domanda Però per Burani È il domandone finale Ragazzi Poi già aggiorniamo su tutto Scateniamo l'inferno Perché io ho lanciato Provocatoriamente I miei migliori amici Sono interisti Quindi lo faccio Veramente col sorriso Sulle labbra L'hashtag Dead Team Playing Al Dead man walking Di qualche anno fa Ma come fa l'Inter Era fare mercato Lo chiedo Davide Burani Il nostro gestionare Guarda Allora 160 milioni Di patrimonio netto passivo Insomma Col segno meno Credo che Indice di liquefazione Eppure Eppure Guarda Bisognerebbe vedere i bilanci Perché poi sai Io il bilanci di Inter Non li ho visti Non ce li ho Altrimenti Li potrei Se qualcuno li ha Se qualcuno li ha E mi li vuole mandare Io li C'è un articolo Che è uscito l'altro ieri È stato il giro del web È l'articolo Che ha commosso il web Il coraggio Della testata Milanese Il giornale Di scoperchiare Cominciare a scoperchiare Non è Kibior Non è Kibior Un piccolissimo esborso economico Che magari l'Inter Potrebbe poter fare Se vende qualcun altro Perché l'indice di liquidità Può essere aggirato Dicendo che Se tu in quella sessione Vendi dei giocatori Tu puoi utilizzare Ciò che ti entra Per fare mercato Cioè se la Juve Vendesse Ealing Tanto per dire un nome Potrebbe Con i soldi di Ealing Fare mercato Questo lo puoi fare Non puoi Diciamo fare mercato Immettendo risorse nel sistema Se hai l'indice di liquidità Sotto la soglia di 0,6 La vera domanda È capire Lo dicevo oggi Come faranno a rifinanziare Quest'enorme bond Che scade a maggio Pare che Zanga Sia al lavoro Con Goldman Sachs Per trovare Delle condizioni Di rifinanziamento Chi non lo sa Deve sapere che Goldman Ha il mandato Per rifinanziare il bond Reign Group Ha il mandato Per vendere la società Staremo a vedere E capiremo cosa succede Io ero molto forte Però è Luca Io ero molto forte Sì sì No ma io ero Scusa L'ho dato io in live L'altro giorno La Juve È assolutamente presente Sul giocatore Però l'ho sentito Il prezzo Tipo 50 milioni Eh ma infatti Il problema è Che quando si parlava Di Jalò Ho parlato di Jalò Ho detto ragazzi Eravamo in live L'altro giorno Ho detto Guardate che la Juve La Juve È molto più Attenta Da mesi Su Jorò È Dell'Ans giusto Jorò O è Lille 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 Quindi comunque con Lille Noi abbiamo buoni rapporti Esatto Però non è questo il giocatore A cui mi riferivo Che è nei radar Nello scouting Così come Abbiamo detto anche in precedenza L'amico Desirè Ma Mi fa sorridere Oltretutto Jorò Non è Mancino Io ho detto Quando dico Mancino Dico anche di piede sinistro Non vorrei essere preinteso Quindi non è neanche Dell'ICT Che tanti Rivolrebbero Alla Juventus Giacomo Io non lo rivolrei Però Mi fa sorridere Che cercano di tirarti fuori Questo nome Dalla chat E tu tanto sei Glaciale Non ti smuovi No ma perché Perché ti spiego Io i nomi quando è Non ho problemi E lo sapete No ma È simpatico Questo gioco Dell'Ans Perché io non faccio il mercato Però giustamente Trasferisco informazioni Che è una cosa diversa Da fare E allora Trasferendo informazioni Cosa succede Cosa Che roba triste C'è vero al sito Eh lo so Fatemi una ragione Fatemi una ragione Eh Quello che faccio E che anche Su questo tipo di situazione Lo dirò poi Di cosa si tratta Ma prima voglio avere Un quadro Un quadro Giustamente Dove raccontare Anche magari Quella retroscena in più Quell'aneddotino in più Ma poi esatto Fare mercato Una cosa Trasferire informazioni Per trasferire informazioni Deve avere Tu racconti Tu racconti Non lo fai Tu lo racconti Anche racconti Sembra No Eh Pavlovich Piace come Piace come Ma non mi risulta O almeno Al momento Questa mossa Questo tentativo Non fatemi dire troppo Grazie al gestionale Number one Davide Burani Grazie Auguri di buon anno Buona fine Buon principio Buon anno di 2024 Grazie Eh Anche a Giacomo Marinelli Andreoli Tanti auguri Tanti auguri Un abbraccione Ringrazio Ma intanto Finiamo bene Finiamo bene il 2023 Il 30 Attenzione Mi dicono Testuale In questo momento Ci siamo Ci siamo Leggo testuale Ci siamo Coi cerotti Ma ci siamo Anche stasera Pazzavoglia Di Luridaio Quindi ci sarà Il late show Sando Scarpa Mike Pusco E non so chi altri Chi Vuole proporsi Il benvenuto Vogliono fare Una mucchiata Di finanno Quindi scrivete A Mike A Sandro La chat di Twitch Fate qualcosa Candidatevi Eccetera 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 Grazie Anna Bianconera A Stefano Maffei Ovviamente A Bobby Jean Stefania Capodici Joshua Furita Luca Eh Sì Juve Roma Juve Roma Credo Dicesse risultato Risultato 3 a 1 Risultato 3 a 1 3 a 1 Ok ok Dai 2 a 1 Soffriamo un po' Ma ci sta Dai Cristianuccio 10 mesi con noi Ha rinnovato l'abbonamento Anche 93 per il 32esimo mese 32 mesi di competenza E di simpatia Ci proviamo Grazie ragazzi Grazie a tutti voi Grazie E ci ritroviamo Questa sera Ciao 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 Ciao